ciao amici benvenuti nel mio canale sono di nuovo con voi con un bellissimo video la madre di enjina kurek ha fatto una dichiarazione siate felici per sempre miei cari tuba bujukustun e enjina kurek che si sono sposati in italia il 17 settembre 2024 stanno ora vivendo l'eccitazione del bambino la madre di enjina kurek una delle coppie che qualche giorno fa ha organizzato un pranzo di nozze in famiglia ha condiviso la sua felicità con i suoi follower la coppia di attrici tuba bujukustun e enjina kurek innamorati da molto tempo si è sposata a roma la capitale d'italia il 17 settembre 2024 si è tenuto un pranzo di nozze in famiglia la madre e il padre di tuba bujukustun non hanno potuto partecipare alla cerimonia nuziale a roma a causa dei loro problemi coppia famosa qualche giorno fa ha organizzato un pranzo di nozze in famiglia il mio bambino ha rivelato il suo sesso anche tuba bujukustun e enjina kurek hanno annunciato il sesso del loro bambino con la foto scattata durante la cena enjina kurek ha annunciato che aspettano un maschietto con un post in cui aggiunge un emoji a forma di cuore blu anche la madre di enjina kurek uno della coppia di attori la cui eccitazione cresce di giorno in giorno ha condiviso la sua felicità con i suoi follower mio caro figlio mia cara figlia mia madre che ha condiviso i momenti in cui mio figlio enjina kurek e mia nuora tagba bujukustun hanno tagliato la torta ha detto mio caro figlio mia cara figlia si felice per sempre grazie a tutti per aver guardato il mio video ci vediamo nei nuovi video